78 posti complessivi per studiare gratuitamente in una delle migliori università del mondo per formazione e ricerca. La Scuola Superiore Sant'Anna annuncia l'apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l'ammissione ai corsi ordinari di primo e secondo livello. Le novità di quest'anno sono significative perché per la prima volta la scuola ha deciso di fare un investimento significativo per aprire la scuola non solo a studenti del primo livello ma potranno provare a entrare alla Scuola Sant'Anna attraverso il concorso anche studenti che sono interessati a entrare al secondo livello. Scienze sperimentali applicate includono medicina, ingegneria, scienze agrarie e biotecnologie vegetali. La bellissima opportunità che offre la Scuola Sant'Anna rispetto a queste tematiche sono laboratori che non hanno uguali forse in Italia, forse in Europa, insomma sono laboratori super all'avanguardia. Anche per facoltà, settori che potrebbero sembrare diciamo meno ricchi di opportunità dal punto di vista lavorativo la collocazione dei nostri allievi è sempre di altissimo livello e questo è proprio il plus che la formazione, la didattica, la vita collegiare da loro, una marcia in più per confrontarsi poi con il mondo del lavoro.